ben ritrovati di nuovo su review come promesso un altro prodotto che ormai acquistato da alcuni mesi e che sto utilizzando e volevo condividerlo con voi acquistato su amazon vi lascio il link in descrizione di questo modello preciso esistono diversi modelli anche della stessa marca con diverse misure questo secondo me è una buona via di mezzo come appunto dimensioni adesso vi mostro le dimensioni appunto si tratta di un 12 per 9,5 centimetri queste sono le dimensioni abbiamo una lama tra virgolette in acciaio inox è flessibile quindi c'è un po di gioco come vedete ed è utilissima quando andate a prendere il vostro impasto il vostro panetto e ovviamente su questa parte spianatoia in acciaio è veramente utile per andare sia a raschiare via i residui di pasta si tolgono veramente bene ma anche quando date in cassetta a togliere il panetto perché la superficie secondo me va a prendere proprio l'intera parte del panetto la parte qui è in plastica dura piena come vedete mentre questa qua questa parte in acciaio è veramente veramente fine come vedete è sottile quasi come un'unghia qua abbiamo anche la marca come potete ben vedere io ho acquistato di questa marca sempre su amazon anche di porta ingredienti per la pizza nello specifico due perché il primo che avevo comprato l'ho trovato davvero comodissimo e ottimale quindi vi lascerò magari anche le recensioni e link qui sotto per acquistare quei due prodotti devo dire quindi che un ottimo prodotto ve lo consiglio sia per tagliare la pasta per smuovere i panetti dalla dalla cassettina e se avete qualsiasi domanda non esitate a porvela alla prossima review